Si è conclusa la complessa operazione di vigilanza di pesca denominata Cundown, condotta su tutto il territorio nazionale, dal corpo delle capitanerie di Porto, Guardia Costiera, che per tutto il mese di dicembre ha visto impegnati i militari di tutto il compartimento marittimo di Porto Empedocle, che comprende anche gli uffici circondariali marittimi di Sciacca, Licata e Lampedusa, su tutta l'area di giurisdizione, sia a terra che a mare, mirata a garantire il rispetto delle norme che disciplinano l'intera filiera della pesca, dalla cattura alla vendita, dal dettaglio al fine di tutelare il consumatore finale proprio nel periodo delle festività natalizie di fine anno, in cui si registra un maggior consumo di prodotti ittici. Particolare attenzione è stata posta dal controllo sul rispetto delle norme relative alla commercializzazione dei prodotti ittici nei ristoranti, allo scopo di accertare l'eventuale irregolarità circa la tracciabilità del prodotto, l'assenza di frodi in commercio e rispetto della normativa igienico-sanitaria. Da tali controlli diversi sono state le contestazioni elevate e i sequestri amministrativi effettuati per inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei prodotti ittici. Sono stati sequestrati quasi 400 kg di prodotto di vario genere e specie contestate sanzioni amministrative per la somma di 7.500 euro complessive. In tale complesso l'operazione Countdown, le verifiche del rispetto delle norme da parte dei gestori ai ristoranti etnici, i controlli esperiti in tal senso hanno portato i militari operanti al sequestro di 250 kg di prodotto ittico, ritenuto non sicuro in quanto il gestore dell'esercizio non è stato in grado di attestare la tracciabilità del prodotto destinato alla somministrazione degli avventori. Inoltre si è proceduto al deferimento presso la competente autorità giudiziaria del proprietario di un altro ristorante etnico poiché deteneva prodotti ittici in cattivo stato di conservazione giudicati non in ordini al consumo umano da parte del dirigente medico veterinario intervenuto operando il sequestro di 16 kg circa di prodotto ittico. Come da prassi consolidata i militari hanno effettuato i controlli mirati anche presso i mercati rionari e le strade della città al fine di verificare il rispetto delle previste norme da parte dei venditori ambulanti dei prodotti ittici. Nel rispetto e nel periodo in oggetto diverse sono state le sanzioni e i sequestri eseguiti al fine di garantire la distribuzione al consumatore finale del prodotto ittico tracciato e sicuro. Sono stati inoltre sanzionati i titolari di tre attività commerciali poiché detenevano per la successiva commercializzazione prodotti ittici confezionati scaduti. I prodotti non piedoni al consumo umano sono stati immediatamente sequestrati e tra sgressori sono state contestate le relative violazioni amministrative sanzionate con pene pecuniarie per un ammontare pari a 3.166 euro. Controlli serrati anche in mare da parte delle unità navali dipendenti i cui equipaggi durante il periodo di riferimento hanno contestato diverse sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 20.000 euro in ordine alla pesca in zone e tempi vietati dalla vigente normativa ed effettuato 29 sequestri di reti e attrezzature non conformi.